La metodologia Lean Canvas rappresenta un'affinazione del Business Model Canvas, un'innovazione portata da Ash Moyer e introdotta nel 2012 nel suo libro Pianificazione Snella. Questo modello è pensato specificamente per le fasi iniziali dello sviluppo di un'idea imprenditoriale, offrendo una struttura che enfatizza un approccio pratico e un'attenzione focalizzata sul mercato. Conformemente al Business Model Canvas, anche il Lean Canvas si articola in nove blocchi, ma si distingue per la sua capacità di indirizzare l'attenzione verso le componenti cruciali durante l'avvio di un progetto. Piuttosto che delineare un modello di business compiuto nei minimi dettagli, il Lean Canvas mira a evidenziare gli elementi fondamentali che consentono al progetto di prendere forma in modo efficace e snello. L'utilizzo di questo strumento facilita diverse operazioni strategiche. Fornisce linee guida chiare per il progetto, assicurando che ogni passo intrapreso sia ben orientato verso obiettivi concreti. Aiuta a identificare ed eliminare qualsiasi attività non essenziale che non contribuisce in modo significativo al progresso del progetto, ottimizzando così tempo e risorse. Offre una visione su come creare valore per gli utenti, mettendo in luce le priorità e facilitando la focalizzazione sugli aspetti che realmente contano per il mercato di riferimento. In sintesi, il Lean Canvas si propone come uno strumento agile ed essenziale per chi si trova nelle fasi preliminari della gestazione di un'idea imprenditoriale, consentendo di navigare le complessità iniziali con maggiore chiarezza e direzione. La principale differenza tra questi due framework sta nello scopo e nel momento in cui vengono utilizzati. Infatti, questi due strumenti non devono essere visti come uno sostitutivo all'altro, ma vanno applicati in fasi diverse della startup e in maniera complementare. Il Lean Model Canvas viene utilizzato nelle fasi iniziali del ciclo di vita di una startup, nel momento in cui c'è solamente l'idea di fondare una startup. In questa fase non si sa bene cosa offrire al mercato e soprattutto se l'idea in questione possa avere del potenziale. Il Business Model Canvas, invece, viene utilizzato per strutturare ed organizzare il progetto in modo da creare ed acquisire valore. Al netto delle differenze ad alto livello, i due framework differiscono anche per i blocchi che sono stati modificati o sostituiti. Nello specifico, per il Lean Model Canvas e rispetto al Business Model Canvas sono stati modificati quattro blocchi. Partner chiave, o Key Partners, che diventa il problema da risolvere. Attività chiave, o Key Activities, che diventa la soluzione. Risorse chiave, o Key Resources, che diventa il blocco delle metriche chiave. Relazioni con i clienti, o Customer Relationship, che diventa il vantaggio competitivo. La metodologia Lean Canvas si rivela uno strumento imprescindibile per trasformare un'idea imprenditoriale in un modello di business snello e funzionale. Con una metodologia chiara e diretta, impareremo a identificare gli elementi fondamentali del nostro progetto, delineando strategie e potenziali entrate, in modo efficace e senza perdite di tempo. Un maggiore focus sui problemi e sulle soluzioni, a questi problemi, a discapito di clienti e partner. Proprio perché il cliente è al centro del processo di compilazione, il primo blocco da analizzare è quello dei clienti, insieme a quello del problema. Ricordati che problema e clienti sono legati, per questo motivo è utile analizzare i due blocchi in maniera direttamente conseguenziale. Ma come compilarlo? Il problema, problem. Qual è il problema che hai individuato e vorresti risolvere? Cerca di essere specifico nel descrivere il problema, in cosa consiste e quando viene avvertito. I segmenti di clientela, customer segments. Quali persone avvertono questo problema e in quali momenti? Identifica qui il tuo cliente tipo e le sue caratteristiche, in particolare definisci il profilo dei primissimi utilizzatori. La soluzione, solution. Quale soluzione offri? Definisci la soluzione in modo chiaro e semplice e ricorda di definirne una per ogni problema. La proposta di valore, unique value proposition. Perché le persone dovrebbero scegliere il tuo prodotto servizio? Cerca di rispondere a questa domanda e nel farlo sforzati di capire in cosa la tua offerta sia migliore rispetto alla concorrenza. I guadagni, revenue streams. Quanto dovranno pagare i clienti e in che modo? Decidi quando, come e quanto far pagare ai clienti il tuo prodotto o servizio. Presta particolare attenzione alla definizione del prezzo di vendita. Il vantaggio competitivo, unfair advantage. Riesci ad essere esclusivo e non replicabile? Identifica i fattori che ti permettono di mantenere un vantaggio competitivo e durevole nel tempo. I canali, channels. Quali canali utilizzerai per vendere e acquisire clienti? Individua tutti i canali con cui entrare in contatto con i clienti e seleziona quelli più adatti al tuo business. Le metriche chiave, key metrics. Cosa sancirà il successo o il fallimento del business? Identifica quali sono le metriche più rilevanti, come tracciarle e come migliorarle. La struttura dei costi, cost structure. Quali saranno i costi da sostenere? Specifica i costi che incideranno sulla tua impresa, in particolare concentrati su quelli di breve periodo.